Musica 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 Un saluto dei beiati a gente su un mio ok benvenuti in questo video Contro di ultimidiale andate un secondo a vedere Il giorno di pubblicazione di questo video 27 dicembre e quale video E' stato pubblicato in questo canale Il 27 dicembre Proprio il dropper e infatti Siamo tornati con il dropper Con dressy record 360 Eccoci qua Ciao a tutti sono molto emozionato Ragazzi perché su questa mappa non ci vado da un anno Quindi per me è tutto Un ricordo incredibile scusate ho tirato un pugno Vabbè iniziamo Ok iniziamo Questo non l'avevo mai visto Ok No è finta l'acqua Mamma mia che trona Ok Dov'è l'acqua vera? Di lato proprio sotto appena cade Dovrebbe Però non ci si arriva Managgia No Aspetta 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 Ah ho capito Ho capito Ho capito ho capito ho capito come si fa Ecco Purtroppo Purtroppo Aver capito non basta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E il primo livello l'abbiamo super completato Perfetto allora questo livello mi sembra molto difficile Credo Aio Ok Forse non è soltanto una grete Ehm Va qua vai 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 Mannaggia Oh ci stanno Il miele C'è il miele Madonna Ok questo qua è assolutamente Ok Vai 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 No Mmm Questo qua Quelli del Nether sono sempre infami Perché Ci sta la lava Ma non mi di che dobbiamo No No aspettate non ci andiamo Vabbè stavolta facciamo tutto legit Cerchiamo Ma sai che forse È come il livello del Nether dell'altra volta No perché ho visto delle ragnatele Ehm Non penso che sia sempre le vaine Sai che mi sa bisogna buttarsi da fa' Ma già Si Oh No per il poco ci sono quasi arrivato Dove sei buttato? Oh ci sono riuscito aspetta clicco il pulsante Siiii Questo livello mi sembra un po' familiare Ehm No Si l'ho rifatto Che bello Sognavo di rifarlo da tanto ragazzi Come si fa? Gli slime Ho visto Ho capito ho visto Ma adesso È arrivato il momento della fatidica domanda Dressy record Quanti like devono lasciare per il prossimo video? Allora visto che ora siamo cresciuti Tantissimo sul canale Grazie Dobbiamo arrivare a 15 like per il prossimo video Andata ragazzi Lasciate 15 like per il prossimo episodio di dropper Allora ragazzi Io lancio una sfida a Dressy Quello che non riuscirà ad arrivare giù e a premere il pulsante Si beccherà una bella penitenza Scritta da voi qui sotto nei commenti Quindi scrivete La penitenza che dovrà fare uno di noi Ragazzi Prima di continuare con il video Arriviamo a 20 like Se mi volete vedere giocare a Five Nights at Freddy's 4 Adressy mi ha detto Lu ma perché non rifacciamo il video del dropper Esattamente il 27 dicembre Che è un anno spaccato proprio E quindi io ho accettato subitissimo Perché mi è sembrato un ottimo ritorno Un'ottima idea È stata una buona idea Soprattutto Perché sono arrivato alla fine No 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 Ragazzi quindi purtroppo Il perdente è Dressy Scrivete qui sotto nei commenti So io quello è perdente Oh Lu No No L'abbiamo visto tutti Io sono arrivato alla fine ragazzi Oh l'abbiamo visto tutti L'abbiamo visto tutti quanti Ragazzi mi ha banato dal mio server Ma perché Perché l'ho completato io il livello Quindi ragazzi Scegliete una Penitenza che Luca dovrà fare Ora dovresti poter rientrare Così continuiamo con il video Purtroppo il perdente sono io Eccomi qua Ok continuiamo Ok Ah no già Ah no ok ho già visto lo slime Quindi in teoria dovrebbe essere abbastanza fattibile Vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' No no io procedo di Allora voglio stare visto così almeno mi concentro di più Ci sta un cornicione comunque Ma no è un troll Perché? Ci stanno pure alcuni blocchi di smeraldo Adesso arrivare al video Ragazzi abbiamo denunciato Il creatore della mappa del dropper No 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 Ok ho visto I blocchi di smeraldi Allora ho visto più o meno quali sono i blocchi di smeraldo E quali sono i blocchi di slime Bisogna però Riuscire a superare il cornicione con gli alberi Ecco se riuscissi a superare il cornicione con gli alberi Qui sarei salvo Mannaggia No ma io cado sugli smeraldi Ma la domanda sorge spontanea Dove sono gli slime? Eh che Allora comunque ho notato che il blocco di slime è uno solo Che si raggiunge da dietro Cioè da sta parte della mappa Da qui Ah qua Da qua Perché Da sta parte è stato slime Quindi è solo da qua Annaggia No non ci sta eh Ah e che ne so Ah Si però si sta da quella parte però da di lato Allora bisogna andare da di qua Oh ci sta riuscire ci sta riuscire Si Si No Nooo Eh dai però una volta voglio che te pure io sullo slime Mannaggia quello Benissimo Continuamos No 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 Questa no ciao Oh Torna Buonasera Sono ritornato Aspetta Eh però questa cosa è C'ha sia quella difficoltà di in mezzo il Minecraft No aspetta fermate 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 Chiudi qua Aspetta Sono caduto dalla se Cioè sono caduto dalla se Allora questa è quella dell'altro video che è tipo Super difficile ecco Ecco perché me ne sono andato Se ha voglia Questo la completeremo nel 2013 E ha voglia Ah non ho capito il gioco di parole Ma eccolo Tadà Che bello Questo mi sa che è un po' più difficile del solito Sono incontanto E questo sì Si 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 Ci sta la lava alla fine è strano E le vinyl non ci possono essere perché non ci sta il bioma blu Sì Oh nonna No come ce l'hai quasi fatta Siete sicuri che ho detto quello che avete sentito? Risentiamo il video senza bip Porta la nonna Facciamo così Io e Dressy vi sfidiamo a completare questo livello Vi lasceremo qui sotto il link in descrizione della mappa Voi ce la potete scaricare e giocare anche voi Mandateci le clip sulla mail che troverete qui sotto in descrizione E in un prossimo video reagiremo ai vostri gameplay Quindi cosa aspettate? Fatevi sotto a cliccare questo link e a mandarci il vostro gameplay Ma detto questo continuiamo con il video Ah il dropper è sopra di noi Guarda Ok Quindi siamo già arrivati Oh no Oh Ma è un bug incredibile Oh mamma mia Ma che è successo? Dobbiamo fare il dropper con la levitation Ah Vedi com'è? Eeeh Ah ho capito Adesso ti dai Levitation devi fare il dropper tutto quanto con la levitation Cioè nel senso che ecco A un certo punto finisce la levitation E' un po' E tu c'hai pochissimi secondi per farlo Ok Sì sì Te l'ho messo a presenza facile Sì 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 Ci sono arrivato Non so dove al pulsante però No Trovalo Trovalo Ok io sono arrivato però sono arrivato qua A sopra Vabbè Che mi ribuco di nuovo No Perché? Eh ci potevi forse rientrare nella lava Sì però ma se non ci riesco a fare nulla Eeeh Eccolo Sì Perfetto Che bello Oh è durato un botto Questo è stato il più difficile di tutti Perché sembrava facile Ma non lo era ragazzi E' proprio per niente Era super difficile Io veramente non Non so Perfetto ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale Ma soprattutto Ti vedete c'è anche un commento Per farci arrivare un feedback Ricordatevi la penitenza per Luca E detto questo Io vi saluto Li ho chiuso di saluta Delessi vi saluta Buone vacanze di Natale E si va a 8 ragazzi Ciao Ciao Ciao